Sfida 4 nel comune di Fossombrone per la carica sindaco della città della media Valmetauro. Due le donne e due gli uomini, Elisa Cipriani, Gloria May, Fabio Londei e Massimo Berloni. In queste settimane l'imprenditore della moda si è presentato nei quartieri e nelle frazioni in vista delle elezioni comunali di domenica e lunedì. Ottima la risposta ricevuta anche a San Lazzaro. Tanti cittadini intervenuti per ascoltare le proposte e dialogare con lui e con tutta la squadra. I dodici candidati alla carica di consigliere comunale. Abbiamo messo insieme persone con competenze in svariati campi, con esperienza e impegnate nell'associazionismo, ha dichiarato. Sociale e giovani sono due delle priorità. È necessario lavorare per una città inclusiva, ha proseguito Berloni, dove nessuno deve rimanere indietro. Va riacceso il motore economico di Fossombrone e serve curare le immagini della città con un'adeguata promozione. Le numerose frazioni e quartieri possono tornare a diventare luogo di vita e di lavoro se fornite dei servizi necessari, che vanno garantiti, luoghi, ha detto il candidato, troppo spesso dimenticati dalle amministrazioni comunali. I residenti invece hanno esposto diverse problematiche, dalla viabilità alla pericolosità di alcune zone, dalla mancanza di spazi verdi attrezzati a quella dei servizi essenziali nei prezzi delle marmitte dei giganti. Durante gli incontri si è parlato anche di sanità. C'è chi vi fa promesse da tanti anni, ha aggiunto Berloni, e lo sta facendo anche durante la campagna elettorale. Vi promettono di tutto per qualche voto. Per noi la dignità non ha prezzo. Diverso e doveroso è impegnarsi per ottenere il massimo dei servizi. Noi, se saremo chiamati ad amministrare, incontreremo periodicamente la cittadinanza. Il saper ascoltare e l'umiltà, a concluso, sono due caratteristiche che ci contraddistinguono. A sostenere la lista sono i partiti di PD, Socialisti, Forza Italia e Lega. È stato inaugurato, si legge in una nota, un nuovo modo di fare politica basato sul convincimento che soprattutto a livello locale viene prima l'interesse collettivo piuttosto che le appartenenze politiche. Il 3-4 ottobre si vota Fossomorone. Ho deciso di candidarmi a sindaco e per poterlo fare ho scelto la miglior squadra della quale sono profondamente orgoglioso. Sono persone che, al di là della loro appartenenza politica, che vanno dalla sinistra alla destra moderata, sono convinto che con loro posso fare e posso ottenere quello che ho perfettamente in testa. Cambiare Fossomorone, cambiarle in meglio e dare una Fossombrona ai nostri figli più degna del loro valore e dare a Fossombrone con la nostra esperienza quello che si merita, cercando di creare una comunità ancora più forte, ancora più dignitosa, che torni ad essere il punto centrale della vallata. Questo è il motivo per cui mi candido, oltre all'amore, sviscerato per questo posto in cui sono nato, o meglio, cresciuto e vissuto.